Musica Musica Sì Tiniamoci le leva al bagno E' un cazzo di sì Io mi ricordo quei microfoni a giraffa, mi ricordo Nina, Walter Chiari, Alberto Lugo, io me la ricordo tutta, la cucina che mi sono tirato. E questo è un po' cuo, bisogna agire, bisogna reagire. Il padre di Nicola è stato operato oggi pomeriggio. E come sta? Fortunatamente è fuori pericolo, ci dirà qualcosa su questa faida, visto che è l'unico superstite. Benvenuto nella nostra azienda, adesso vi mostro il reparto creativo che è il nostro reparto migliore. Buon lavoro! Signorina, proprio lei. Buonasera, dottore. L'amministrazione ancora non ha ricevuto i documenti del signor Rosi, come mai? Certo che c'è una forte somiglianza. Adesso basta però, bisogna avvertire la polizia. L'importante è non farsi prendere dal panno, rimanere caldo. Ehi! L'ho detto, cinque minuti e stavamo fuori. Ah Morelli, scusa, devo prendere il microfono per favore. Sì, ecco, scusa. Perdonami, io non ho capito, ma di che colpo parlavate? Ma perché hai sentito? Ho sentito sì, sei microfonato. No, ma era un'improvvisazione, un'idea per una fiction, una cosa artistica. Certo, certo. Perché qua sono tutti attori, pure controfigure. Allora, qua. Ciao. Ciao. Ciao.